Mia moglie è qui e c'è anche qualcun altro, è vero? Le dico di no, mi deve credere, e poi non le permetto, sono in casa mia Non alzi la voce, stia che... E l'uomo di Dio che cosa vuol fare? Non devi diverso Ma quando a Roma un canto torri sono tornelli dolci e appassionati Io ti indagerei questa cosa che ti aspetterei gli ecco la sua sangue che mi chiede Ti ho chiesto non c'è me senti di bisogno Tu mi servis per la fine della mia vita E gli darei tutto ci che ho chiesto Un pacto è un pacto, io non ho solo Il nostro corso di unico. De quel nome devo signare? De tuo nome, Professeur Faust. Attends. Tu sei sicuro che non mi voglio? Tu ne mi spiegherai mai le ruse. Tutte le ruse sono di guerra. Allora, che faccio come tu le voli. Il nostro corso di unico, il nostro corso di unico. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti